Tenente Antonio De Cicco del gruppo sportivo polizia locale, strepitoso successo per l'edizione 2018 di Viva Cimino, tantissima gente, tantissimo sport, una campagna di sensibilizzazione per quello che è il vero polmone verde della città. Io ringrazio comunque in primis voi che avete anche pubblicizzato questo evento e sono così contento come un bambino perché ho visto tanta gente addirittura partecipare, ma diverse associazioni, anche quelle che non avevano chiesto addirittura, si sono inserite con grande soddisfazione. E all'occhio di tutti quanti addirittura, non solo bambini ma adulti che sono venuti a partecipare, ma non solo addirittura, ma anche gente che partecipa in carazzella ad eventi di questa maniera, ci riempie il cuore. Nuovamente lo devo dire con un grande orgoglio, il piacere di vedere a tanta gente e venire, ma non solo partecipare, ma anche ad osservare chi ha ballato, chi ha fatto lotte grico-romane, chi ha addirittura lotte con tranquillità, o parliamo anche della scherma, del pugilato, ma di tante, giochi anche per bambini ed è questo bello. Io spero che si deva continuare perché farà riunire tanta gente qui per il solo piacere addirittura di vivere, di vivere il parco. È una cosa, credo, indescrivibile. Grazie.